Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, secondo mistero, la visita di Maria. Maria della pace, secondo mistero, la visita di Maria a Santa Elisabetta. Preghiamo per gli operatori della sanità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come il cielo è santificato. Venga il tuo regno. Sì 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 sì. Sì 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 sì. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.